Grandi, anzi grandissime novità sul mio nuovo account NoGemming. Oggi andremo a sbloccare il nostro primo brawler cromatico, ma soprattutto, se riusciamo a scalarci per bene, perché ovviamente poi lo andremo anche ad utilizzare, arriveremo anche a poter sbloccare, boh, il nostro primo brawler epico dopo Edgar, che però abbiamo sbloccato gratuitamente grazie ai regali dei 15 giorni appunto di Brawl Stars per tutti i nuovi giocatori. Prima di continuare nel video, però ovviamente come al soldo, vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato, ne ho shop i Brawl Stars fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatta, siamo sempre più vicini al milione di iscritti. Lasciando un bel mi piace per supportare questa serie NoGemming sul mio nuovo account. E detto questo, ragazzi, andiamo a sbloccare Gelindo. Sì, ok, abbiamo 380 crediti cromatici, ma attenzione perché andando nel pass, che ovviamente io sto facendo andare avanti, ragazzi, perché ci sto giocando abbastanza, abbiamo ben 40, 80, 120 crediti cromatici. E questo sapete cosa vuol dire? Vuol dire che siamo arrivati a 500. Tra parentesi, fondamentali sono stati i vari regalucci nel negozio. Sto scoprendo quanto sia fondamentale per gli account NoGemming entrare tutti i giorni per andare a riscattare le varie cose gratuite. Per esempio, prima ho riscattato questi 10 punti energia, negli ultimi giorni ci sono stati regalati appunto anche dei crediti e crediti cromatici. E fanno la differenza, ragazzi, ovviamente. Guardate un po' il pallino, il pallino accanto a Bo che ci va a segnalare che possiamo sbloccare un brawler cromatico. Attenzione, eccolo qui! Ce lo possiamo andare a sbloccare, ovviamente non possiamo andare a sbloccarne prima altri, dobbiamo iniziare da Gelindo. E a me va bene anche così, signori. Con firma dell'acquisto, proprio come se fosse una shoppata serie, ragazzi. Ed eccoci qui, primo brawler cromatico per il nostro nuovo account NoGemming. Ne abbiamo ancora una marea da dover sbloccare. Non potendo shoppare il Brawl Pass, ovviamente per Mandy dovremo aspettare chissà quanto tempo. Però, raga, come vedete la nostra raccolta per il gem sta andando avanti. E il prossimo Brawl Pass sicuramente lo andremo a shoppare nel momento in cui completeremo anche la fase gratuita. Perché per adesso, come vi ho promesso, non andrò a shoppare neanche un centesimo. Detto questo, ragazzi, voi ovviamente vedete le solite quattro modalità che avevo sbloccato, ma sono arrivati abbastanza a trofei per poter sbloccare anche un altro evento di squadra. Che in realtà sono due. Ah, te li sblocca proprio insieme, pensavo poi dovessi fare un altro traguardo per poter sbloccare l'altro. E abbiamo Domini e Keio, che dovrebbero anche darci la possibilità di fare altre missioni. No, ancora non ci vengono date. Vabbè, peccato, 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 peccato. Allora, noi abbiamo diverse missioni da dover fare, però attualmente io direi di concentrarci su Gelindo. Non ci sono modalità che dobbiamo fare se non duelli, quindi dai, vabbè, proviamo a fare duelli. Che magari di mezzo ci mettiamo anche Edgar e Jackie, che sono gli altri due brawler con cui dobbiamo fare delle missioni, se non sbaglio, giusto? Sì, Edgar e Jackie, però metto in prima linea il buon Gelindo, quindi metto magari Edgar come terzo, come carta vincente, Jackie come seconda e appunto come primo il buon Gelindo, che però dobbiamo potenziare, ragazzi, eh? Io direi di portare almeno anche lui al livello 4. Poi, in realtà, dovremmo fare un altro episodio in cui vado ad utilizzare le mie risorse, perché credo di essere arrivato a un punto in cui possiamo utilizzarle per andare a sbloccare tutta un'altra serie di livelli. Comunque, il fatto che nel negozio ogni volta mi scrivi nuovo mi sta dando un fastidio incredibile. Non c'è niente, di nuovo, poi ovviamente ogni volta controllo, raga, perché se ci sono cose gratis da riscattare, le riscattiamo. Tra l'altro, quanti ne dobbiamo sconfiggere di nemici qua? 12, quindi è come se... eh, 4 vittorie dovremmo fare. Va bene, va bene, va bene, no problem, no problem, signori, no problem. Certo, Gelindo non è proprio un brawler da duelli senza gadget e abilità stellare, perché in realtà col gadget e l'abilità stellare del rallentamento ha voglia se è un brawler da duelli. Gelindo è veramente forte, ragazzi, con i vari gadget e abilità stellari. Vabbè, credo che stiamo beccando degli avversari abbastanza tranquilli per adesso. Anche se però comunque abbiamo Edgar a qualche decina di coppe. E vi devo dire la verità, le prime partite con Edgar subito sono state abbastanza difficili. Cioè, si vede che sto scalando di coppe, quindi sto beccando sempre più gente vera e non i classici bot. E questo da una parte mi dispiace perché mi rende più difficile la vita per le missioni, però dall'altro lato, ragazzi, ovviamente, ovviamente diventano un po' più interessanti i video, perché io mi immagino che alcune volte ci si annoia un pochino a vedere queste partite un po' così, no? Ora io ovviamente clicco anche su Gioco Ancora perché tra le altre cose abbiamo anche la missione del Gioco Ancora. E abbiamo di nuovo, di nuovo Shelly Contro. Ok, però sono cambiati gli altri due brawler, sono cambiati. Va bene, va bene, va bene. Tra l'altro, ragazzi, non vedo l'ora di riuscire a portare i brawler al sette perché così almeno riusciamo a sbloccare i gadget. E vediamo un attimino se poi riusciamo, ovviamente, a sciopparne il più possibile. Let's go. Perfetto, perfetto. Andiamo contro il primo ebull. Poi, ragazzi, per le abilità stellari ce ne vorrà, eh. Per tutte quelle abilità, ragazzi, ce ne vorrà, ce ne vorrà, assolutamente. Ok, ok, va bene. Devo dire, molto difficili queste partite. Cioè, ma più che altro la cosa mi fa ridere, raga, di questi bot è che non ci provano neanche. Cioè, tipo, si nascondono nei cespugli quando vedono che stanno prendendo troppo danno. Utilizzano le ulti per scappare se hanno una di quelle ulti che permette loro di scappare. E... Oh, va bene, va bene. Ok, perfetto. Andiamo avanti. Dovremmo fare altri 30.000 di danno circa. Però, per quanto riguarda il resto, raga, io direi di concentrarci più che altro sul sconfiggito di cinemici e basta. Anche perché non è che andremo avanti tutto il pomeriggio così per fare le vittorie con Edgar e Jackie. Certo, potremmo andare avanti così perché sicuramente è più facile, però per adesso direi di no. Più che altro vorrei, almeno per la fine di questo video, di beccarmi almeno una persona vera per rendere la vita di queste sfide un pochino, un pochino più complicata. Ecco, questo ha già fatto un percorso diverso. Non vorrei che già questo... No. Non è una persona vera. Ma lo si capisce, ragazzi, quando non ti sparano. Perché poi, per carità, c'è gente che ha iniziato da poco a giocare, che non sa giocare, eccetera. Però almeno spara. Cioè, quello lo impari a fare. Tante volte questi bot non sparano neanche. Cioè, dovrebbero anche rinforzare un pochino, un pochino, un pochino, un pochino i bot. Non facciamo neanche i danni, in realtà. Non riusciamo a fare quasi neanche i danni. Perché tanto con due o tre hit riusciamo a vincere. Oh, attenzione, una nita, eh. La nita, se si dovesse caricare la ulti, abbiamo contro l'orsacchiotto, che forse è più forte di questi bot. Tra l'altro adesso si chiama... Oh, no, no, questa è una persona vera, secondo me, eh. Questa raga è una persona vera. Ok, ok, sono iniziate le partite un po' più serie. Quindi dobbiamo stare un po' più attenti. Dobbiamo stare un po' più attenti adesso, eh. Questa era palesemente una persona vera. Anche perché ha giocato abbastanza bene. Magari anche lui fino ad adesso ha beccato solo bot e quindi magari neanche se lo aspettava. Oh, no, aveva appena detto che era una persona vera. Lol, non mi deludere così, per favore. No, mi sa che anche lui è un bot. Però con la nita aveva giocato bene, cioè, bene. Oddio, per modo di dire. Però era riuscito comunque, sì, a scappare, ad attaccare nel momento giusto. Attenzione, qui ho utilizzato anche la ulti addirittura per attaccarmi. Perfetto. Tra l'altro manca una vittoria per Edgar. E vabbè, raga, dai, a questo punto direi di fare tutte le vittorie anche di Jackie. Andiamo avanti, così facciamo fare anche qualche coppetta al buon gelindo. Attenzione, una rosa. Attenzione, una rosa. E qui la situazione potrebbe cambiare, eh. Qui la situazione potrebbe cambiare. Attenzione. Abbiamo Alex contro. Ok, no, mi sa che non cambia di tanto la situazione. No, no. Non è, non è cambiata tantissimo. Anzi, non è cambiata. Tra l'altro non sto neanche seguendo i trofei che sto facendo con gelindo. Non li sto neanche proprio guardando, raga, i trofei, sinceramente. Non li ho neanche proprio guardati, quindi dopo questa diamo un attimino un'occhiata. Rimaniamo un attimino sulla schermata della vittoria per vedere effettivamente come siamo messi con i trofei. Non vuole morire sto pocio, non vuole morire. Allora, abbiamo finito la missione di Edgar. Ovviamente avevamo finito anche quella di duelli. E niente, ho cliccato, mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato, ragazzi. Tanto va bene, dobbiamo fare altre due. E così premo anche il gioco ancora, ragazzi. E almeno facciamo anche quella missione lì, anche se però dobbiamo arrivare a 16. Quindi non credo che riusciremo a finirla col video di oggi. E il primo, Colt. C'è un Colt? Mi sa finito se non abbiamo mai beccato un Colt. Però non credo sia una persona vera. Questo Mapex. Attenzione, però, ci ha tirato dei pugni, eh. Attenzione, ci ha tirato dei pugni. Occhio perché se il Colt... Cioè, se è una persona vera, con Colt ci può mettere in difficoltà. Vediamo un po'. Eh, no, però. Facciamo così e tanti cari saluti. Va bene, va bene. Che poi, nelle altre modalità già si nota un po' di meno. Ma in duelli, che devi giocare proprio uno contro uno, cioè, si nota veramente tanto, raga. Cioè, si nota veramente tantissimo. No, dai, signor Mapex, non si faccia ricaricare la vita. Dai, 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 dai. Allora, non devo cliccare. Non devo cliccare nulla perché se no, schippo. Ammazza, ancora 11 trofei. Ma stiamo sempre dando due coppe a Gelindo? No, è a 11, quindi non è possibile che ha sempre beccato i due trofei. Ma sta facendo tutto Gelindo, ma sta facendo salire di coppe più che altro Edgar e Jackie. Va bene, grazie. Comunque, ultima partita per far salire Jackie. E dopo vi faccio vedere la situazione dei crediti per poter andare a sbloccare Bo. Che però andremo a sbloccare in un prossimo episodio. Quindi mi raccomando, lasciando un bel mi piace per supportare la serie. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi episodi. Il prossimo sarà sicuramente questo qui dedicato a Bo, ovviamente. E poi andremo avanti, ragazzi. Dopo Bo non so quanti crediti ci vorranno per sbloccare il prossimo, però dovrebbe essere un altro brawler non comune. Quindi non credo neanche tanti. Dopo poi vedremo la scelta. Comunque, raga, sto parlando di Bo, sapendo che comunque la scelta è tra Bo ed Ems, perché in qualche video fa vi avevo chiesto quale brawler dovevo sbloccare. Io ero più propenso per il Bo e la maggior parte di voi ha votato proprio Bo. Quindi andremo sicuramente su Bo. Comunque, ci siamo fatti un sacco, a parte questi crediti della modalità duelli, ci siamo fatti un sacco di gettoni. Siamo andati un sacco avanti. E tra l'altro anche altri crediti. Altro oro che vado già a riscattare. Tutti i crediti li andrò a riscattare ovviamente poi nel video per Bo. In 40 giorni, raga, credo che ce la faremo a completare il pass senza alcun tipo di problema, anche perché tanto io mi sto facendo tutte le missioni giornaliere. Sto cercando di finire sempre anche le missioni stagionali. Insomma, mi sto dando da fare, raga, come promesso. Vi ricordo ovviamente il codice creatore GGYT, tutto attaccato a uno shop e Brawl Stars, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Lasciate un bel mi piace. Abbiamo superato tra l'altro i mille trofei, quindi ci andremo anche a prendere questi 320 crediti, più tutti i crediti che abbiamo nel pass ovviamente ci permetteranno di andare a sbloccare Bo. Per me è tutto, ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!